Ecco il Red Corner, è bulgaro, ma ormai vive a Bolzano, Angel Dimitri Ciancaro! Grazie a tutti! Nella categoria pesi 67 Prima ripresa, è la seconda, è la seconda, è la seconda, è la seconda! Prima ripresa, è la seconda, è la seconda, è la seconda! Stop! Vai! Vai! Bravo! Stop! Vai! Vai! Bravo! Vai! 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 Bravissimo! Bravo! Bravo! Stop! Grazie, Angel! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! eh stop vai 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 bravo 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 Fai! 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 Bravo! seconda ripresa Svai che l'Unghe è seconda ripresa Svai che l'Unghe è seconda ripresa stop stop vai stop vai ok 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 bravo vai vai è la terza volta che prende col volito ok bravo 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 ha due mani non si può prendere ma cosa vuoi ma cosa vuoi vai vai 7 8 vai vai stop lascia il backfield vai e poi nasce bravo 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 ma cosa vuoi bravo 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 Stop! Vai ad me! E poi! Fai! Stop! Fai! Ok! Bello! Vai! E ora tu con le braccia! Con due braccia non vale! Stop! Vai! Vem con le braccia! La seconda ripresa è l'Auglis. 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 Per detto dei giudici... La seconda ripresa è l'Auglis. La seconda ripresa è l'Auglis. La seconda ripresa è l'Auglis.